Salve a tutti da Rossella Tirimacco e mi trovo qui sotto il viale della stazione in compagnia di Nico Liberati. Nico è uno dell'associazione No Green Pass Non Toccate i Minori. Questa mattina si è tenuta qui a Sulmona una manifestazione dei cosiddetti No Green Pass. Spieghiamo anche cosa è questo No Green Pass. Nico, cosa è accaduto questa mattina? Perché poi ci sono stati degli articoli in cui la manifestazione è stata rinviata. Cosa è successo in realtà? C'è stata molta copertura stampa su un evento che in realtà noi non volevamo svolgere, tanto che abbiamo annullato la manifestazione per via del crescere dei contagi che sono stati registrati ieri, ben oltre le 150.000 unità solo in Italia. E per solidarietà con la popolazione noi avevamo ritenuto di non svolgere nessuna manifestazione. Evidentemente le persone che ci seguono sono molte di più di quelle che crediamo e abbiamo trovato persone in piazza e sostanzialmente abbiamo utilizzato questo appuntamento per conoscerci. Ed è stata una bella conoscenza, grazie della vostra presenza. E cos'è accaduto dopo? Siamo stati nel lab vaccinale, ci siamo presentati al personale sanitario e abbiamo testimoniato un'evidenza che ai più è sconosciuta. Il vaccino non viene prescritto dalle subrette o dal jet set nazionale artistico e ricreativo. I farmaci vengono prescritti dai medici e in particolare il cosiddetto vaccino deve essere prescritto. Quindi ci siamo recati negli abbraccinali, questa mattina sul mare, per chiedere la prescrizione o l'esenzione da questo farmaco. In particolare sei stato tu a chiedere, ti eri prenotato per il vaccino, giusto? Io stamattina mi sono prenotato per essere vaccinato e sono andato nel lab vaccinale, avevo l'appuntamento alle 12 meno 10 circa, sono stato accolto con molta professionalità, con molta cortesia. Erano presenti le forze dell'ordine che hanno saputo gestire benissimo la situazione come al solito, noi ci complimentiamo e siamo rassicurati dalla loro presenza. Il medico che mi ha intervistato ci ha tenuto ad esentarmi dal vaccino, ecco, quindi questa è la novità. Io probabilmente, secondo quello che mi è stato detto, non mi posso vaccinare. Quindi una grande vittoria? Non necessariamente, io volevo vaccinarmi. Ci devi davvero vaccinarti. Come no? Ma vediamo un po' alla vostra associazione il fulcro, perché quando si parla di no green pass, queste etichette che vengono messe alle persone, sembra quasi che chi non voglia vaccinarsi, debba essere per forza etichettato e messo in una sorta di scatola, dove sta lì e allontanato da tutto il resto della società. In realtà l'errore è soprattutto semantico, perché se noi continuiamo a pensare che ci possiamo distinguere tra vaccinati e non vaccinati, continuiamo a fare un errore di sistema. Non c'è nessuna differenza tra un vaccinato e un non vaccinato. In realtà ormai sappiamo che si contagiano tutte e due, quindi. Come al solito il potere quindi, su che cosa, basa il suo potere proprio sull'ignoranza, quindi c'è la nostra non conoscenza del merito di vaccinazione in questo caso. Quando ci sarà la prossima manifestazione? Mi auguro che da quello che mi hanno assicurato i comitati no green pass di Sulmona, che sono nati questi giorni, diciamo, ma erano già attivi perché c'era una certa effervescenza nella valle Peligna, che la prossima manifestazione sia quella dell'8 di gennaio. E noi ne prenderemo la paternità, io stesso farò il provviso di manifestazione e saremo sicuramente presenti qui a Sulmona. Benissimo, Ti ringrazio e ci vediamo a presto. Grazie. Grazie.